La prima del nuovo anno per l'FC Matese è in continuità con i risultati del 2023. Nelle ultime 12 di campionato soltanto 4 punti per gli uomini di Urbano. I Verde Oro al Ferrante hanno perso di misura contro l'Aquila, lanciatissima al secondo posto insieme alla San Benedettese. Dopo il gol di Banegas messo a segno nei minuti iniziali del match, i Matesini non sono riusciti a trovare la via del gol, nonostante un secondo tempo molto propositivo. Galesio e compagni sono rimasti così a quota 13 punti, ultimi in classifica a 4 lunghezze di ritardo dalla zona play-out. Passiamo alla cronaca del match. Urbano manda subito in campo Rinaldini dei nuovi acquisti dentro anche Galesio e Cassese. Parte dalla panchina Manfrellotti, quinto minuto a cross dalla sinistra per Banegas che gira in porta con il sinistro. Il suo tiro è deviato ed esce a lato. Sul seguente corner l'Aquila passa in vantaggio, pennellata di Origlio dalla sinistra. Banegas è liberissimo di colpire e con una perentoria incornata batte il portiere 0-1 degli ospiti e nono gol in campionato per il bomber che sblocca la contesa. Il Matese accusa il colpo, 18esimo ancora un cross in area per Banegas che da posizione favorevole allarga troppo il piatto e spreca la chance. Il numero 10 nero verde è il più attivo e ci prova ancora qualche minuto dopo ma stavolta il colpo di testa è ben parato da Rinaldini. Il Matese si affaccia in avanti alla mezz'ora con Napoletano su punizione. Il tiro è respinto sui piedi ancora del numero 10 di casa che ci riprova ma calcia a lato. Nel finale Napoletano ci prova anche di testa ma il suo tentativo esce di poco sul fondo. Si va al riposo sul risultato di 0-1 in favore dell'Aquila. Nel secondo tempo i ragazzi di Urbano iniziano in modo spigliato. Prima ci prova Napoletano che in corsa chiama la parata bassa Michelin e poi Russo con una bellissima punizione che manda di pochissimo alto oltre la traversa sfiorando l'incrocio. Anche Langellotti cerca la via del gol ma il suo sinistro è troppo debole e Michelin para facilmente. I padroni di casa non si arrendono e al 74esimo vanno ancora vicini al gol. Azione da corner parla per Gagliardini che da pochi passi non riesce incredibilmente a spedire alle spalle del portiere ospite. Gli ospiti dopo aver difeso si affacciano in avanti dapprima con il neo entrato Perziani e poi con Costa Ferreira che però non trovano lo specchio. Nel finale sponda di Galesio per il neo entrato Manfrellotti che però si scontra col portiere in uscita e manda a lato. Il forcing della ripresa non basta e l'Aquila porta a casa i tre punti vincendo 1-0. Successo prezioso per gli abruzzesi che salgono al secondo posto in classifica. Resta invece ultimo il Matese.